buongiorno ragazzi come state spero tutto bene allora visto che sto guidando per andare a milano a prendere un grande artista bassista di una band di cui io sono fan sfegattato da sempre poi magari vi dirò di chi si tratta visto che sto andando a milano ne approfitto per fare questo video per ricordarvi che sta per ripartire il tribe demo tour a tribe demo tour che per il 2020 non si fermerà praticamente mai in italia ma non solo andremo anche in europa a far provare vedere i nostri strumenti e vi ricordo che ogni mese ci saranno diverse tappe in tutte le regioni in tutte le città per cui seguiteci e venite a trovarci conosciamoci venite a provare gli strumenti e ci farà molto molto piacere incontrarvi quindi vi ricapitolo brevemente le tappe del mese di gennaio la settimana prossima quindi mercoledì 22 gennaio io e d'armes locatelli saremo a firenze inviare giacomo matteotti numero 9 basta citofonare tribe demo e dopo i dovete salire al primo piano io ed ermes vi aspettiamo dalle 21 e 30 alle 23 30 per farvi provare appunto le le novità tribe e per conoscervi giovedì 23 invece sempre di gennaio io ed ermes saremo quindi la sera successiva io ed ermes saremo a pisa presso la backstage academy posto tra l'altro strepitoso veramente se non conoscete la realtà backstage andate a vedere perché ci sono diverse realtà in italia e devo dire veramente veramente delle belle scuole sale prova studi insomma andate a conoscere questa realtà perché ne vale la pena quindi giovedì 23 gennaio dalle 21 e 3 e dalle 20 e 30 alle 23 io ed ermes vi aspettiamo presso backstage academy di pisa ok il 25 sarà invece la volta di cisterna di latina dove io e francesco cecchette vi aspettiamo presso musicality francesco è un bassista professionista nonché insegnante e è il titolare di questa scuola che si chiama appunto musicality a cisterna di latina in via versa numero 9 e quindi sabato 25 vi aspettiamo dalle 15 e 30 alle 19 19 30 vediamo un po come va la giornata per farvi provare i nostri strumenti anche lì vi aspettiamo numerosi mi raccomando domenica 26 invece io e davide panetta saremo a roma in via pisino al via pisino 63 al double stroke music studio dalle 14 e 30 alle 17 so che domenica 26 c'è il derby roma lazio però insomma noi crediamo pensiamo di chiudere verso le 17 17 30 ma se poi insomma ci fosse la necessità saremo lì a disposizione anche fino alle 19 non è un problema vi aspettiamo numerosi quindi vi ricordo che il tribe demo tour sta per ripartire 22 gennaio firenze 23 gennaio pisa 25 gennaio cisterna di latina 26 gennaio roma poi man mano pubblicheremo le date delle tappe di febbraio di marzo e nel corso dei mesi insomma vedrete dove andremo dove andremo a far provare i nostri strumenti continuate a seguirci vi ricordo che la partecipazione è gratuita potete prenotare il vostro posto andando su event bright cercate nella data nella città di riferimento l'evento e scaricate il biglietto appunto che è gratuito non vi costa nulla e vi da tanto perché verrete ci divertiremo parecchio insomma ci conosceremo faremo due chiacchiere due risate come sempre e avrete modo di finalmente vedere toccare provare gli strumenti tripe tutta la gamma nuova e ho una novità amici chitarristi anche per voi perché ci sarà il ritorno di tripe alle sei corde quindi ci sarà anche una chitarra che potrete venire a vedere toccare e provare quindi aspettiamo che gli amici chitarristi ok e niente io vi ringrazio per l'attenzione ci aggiorniamo presto un abbraccione e ci vediamo durante il tribe demo tour vi aspettiamo ciao a mercoledì prossimo a firenze a presto